Acqua, vino, olio, no petrolio, movimenti per l'acqua oggi a Pescara a sfilare in questo corteo per la giornata nazionale dello sciopero? Sì, perché per andare contro il Monarca Renzi, Monarca Renzi non solo distrugge il lavoro, distrugge le possibilità di questo paese, ma distrugge anche l'ambiente e difatti noi chiamiamolo sblocca Italia, sporca Italia, perché rovina, petrolizza il nostro mare, privatizza l'acqua e quindi è un problema per tutti. Voi avete delle posizioni contrarie a quelle della regione per alcuni versi? Allora, la regione dice che è contraria alla petrolizzazione, però le persone dello stesso partito, cioè del PD, quando vanno in Parlamento votano a favore della petrolizzazione, dovrebbero decidere in quale partito stanno e quali idee hanno. Come mai oggi qui a scioperare anche Babbo Natale? Certo, siamo rimasti poveri, non possiamo dare doni a nessuno, siamo poveri. Voi arrivate da? Francavilla. Chiedete al governo una manovra importante per il lavoro? Certamente, l'importante è dare una manifestazione anche al signor Renzi, diciamo, signore, da parte, che non è di sinistra, lui dice che è di sinistra, che deve più ascoltare noi che loro. Voi manifestare qui a Pescara per chiedere cosa? Per chiedere più diritti al lavoro, tutta sta manovra che stanno facendo contro il lavoro e i lavoratori. Conto appunto questo governo che si sta rivelando un disastro appunto per la classe operaria e soprattutto anche nel discorso della Jobs Act e l'articolo 18. Filt CGL in piazza Pescara per chiedere cosa e per manifestare contro chi? Come sempre la Filt CGL è presente a questa manifestazione e in tutte le manifestazioni. Nonostante gli attacchi ai sacrosanti diritti garantiti dalla Costituzione per quanto riguarda la libertà di scioperare, fortunatamente il governo, grazie all'intervento della nostra segretaria, è riuscito a fare un passo indietro per quanto riguarda i compagni ferrovieri. Noi siamo qui in piazza a dimostrare e a dichiarare al signor Renzi che il paese non è quello che pensa lui, ma è quello che come vedete davanti a noi e dietro alle nostre spalle. Questa protesta rumorosa oggi come vai? Questi tamburi improvvisati? Dobbiamo dire grazie al governo Renzi se stiamo facendo questa manifestazione. Tutti uniti in piazza contro l'articolo 18 e il ciobacco. Sì, l'articolo 18, l'articolo 4, l'articolo 13, tutto diciamo, insomma. Tirocinanti dell'Abruzzo, della giustizia, voi siete in piazza per protestare anche? Siamo in tre piazza perché vedo che il nuovo governo Renzi sta facendo le cose bellissime, infatti noi siamo tirocinanti da quattro anni a 2300 euro l'anno, senza malattia, senza contributi, senza maternità, senza possibilità di prendere permessi e adesso quel che si dice è che ce ne vogliono fare un altro, sempre a 2300 euro, ma neanche per tutti, 50 anni li sbattiamo fuori dalle palle perché sono troppo vecchi chiaramente. Questa è la situazione, quindi abbiamo lanciato la campagna adotta un tirocinante. 2300 euro l'anno ne fai quel che vuoi, senza contributi, senza niente, e rivolgersi al Ministero della Giustizia per informazioni. Grazie. 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 Grazie.